Io persona al centro, oltre pregiudizi verso l'inclusione nella giornata mondiale del rifugiato per festeggiare i dieci anni del progetto SAI, l'evento organizzato a Civita con la partecipazione della cooperativa sociale Medi Hospice. Sono oltre dieci anni, da luglio 2014, che noi abbiamo stanziato qua su Civita prima i giovani 18-29 anni. Poi fortunatamente dal 2017-18 siamo riusciti a fare un'operazione in cui abbiamo cominciato ad ospitare mamme con figli, con bambini, quindi ha dato un grande significato anche alla valorizzazione del nostro piccolo paese perché averli inseriti in un contesto come quello di Civita ha permesso a questi bambini di cominciare a integrarsi con la nostra scuola, con il nostro modo di essere. Tanti stanno rimanendo a Civita e questo è un dato importantissimo. Un esempio, ripeto, virtuoso, come dicevo prima, che può essere riproposto in tante realtà, piccole realtà, che ci sono alle nostre latitudini, che potrebbero essere appunto un esempio da seguire per anche proporre una nuova pianificazione anche all'interno delle popolazioni che continuano a subire spopolamento e continuano a subire una difficoltà che è che è difficile soluzione se non attraverso questi esempi appunto. Anche se nel 2024 sono più che dimezzati gli sbarchi dei migranti, lo rivelano i dati del Viminale aggiornati al 2 agosto, secondo i quali ad oggi i migranti arrivati sulle coste italiane sono 33.894, 4.188 minori non accompagnati. A fronte degli 89.401 sbarcati nello stesso periodo nel 2023, essere persone rifugiate o migranti ancora oggi comporta affrontare una miriade di ostacoli per riuscire ad ottenere tutela e protezione adeguate. Ed ecco che in soccorso arrivano le associazioni e le organizzazioni non governative. Infatti ha detto bene, all'inizio si hanno un po' di difficoltà, però loro arrivano e sono subito presi in carico da un'equipe multidisciplinare, ognuno per il proprio ruolo e degli operatori che ogni giorno sono con loro nell'accompagnamento di questo progetto che minimamente dovrebbe essere un progetto che dura sei mesi, ma si può allungare anche per problematiche oppure per inserimenti lavorativi e abitativi. Oggi noi festeggiamo questi dieci anni a Civite di accoglienza proprio per far vedere cosa si è fatto in dieci anni per queste persone, persone che comunque hanno diritto anche come le famiglie italiane a quelle cose che lo Stato dovrebbe dare come in primis leggi più sicure per l'integrazione, per l'autonomia e per i diritti. E poi c'è chi ce l'ha fatta, è il caso del giovanissimo Raymond Karam, un ragazzo egiziano che ha lasciato la propria casa a 14 anni scappando dalla guerra e dalle persecuzioni nei confronti dei cristiani. Raymond gira per le scuole e racconta il suo viaggio. Non abbiamo scritto in fronte che siamo né buoni né cattivi, indipendentemente dal colore della pelle, orientamento sessuale, religione, fede, origini o tutt'altro. Quindi cerco di raccontare la mia esperienza di un ragazzo fuggitivo, si può dire, che è arrivato qui in Italia con tutte le problematiche di integrazione, di inclusione, di accoglienza, tutto quello che è successo e cerco di raccontarla anche agli altri. Non raccontando un punto di vista politico o un punto di vista personale, ma semplicemente la realtà in base a come l'ho vissuta. Poi sta agli altri criticarmi e criticare l'immigrazione in base alla realtà dei fatti, non in base alla costruzione della politica o altro. Raymond Karam, oggi 24enne, attivista per i diritti umani e protagonista del libro Il mare, nasconde le stelle scritto da Francesca Barra, è arrivato in Sicilia con uno sbarco da solo a 14 anni con il sogno di diventare ambasciatore del suo paese. Quindi cerco di raccontarmi la mia esperienza di un ragazzo fuggitivo, si può dire, che è arrivato qui in Italia con tutte le problematiche di integrazione, di inclusione, di accoglienza, tutto quello che è successo e cerco di raccontarla anche agli altri.